ecco l'ultimo chilometro, altro volatone con il gruppo allungato con gli uomini della Panasonic che stanno lanciando lo sprint mentre io chiedo scusa ma cerco un barco verso la balaustra rettilineo finale, ormai ecco Rosola, la maglia ciclamino di Rosola eccoli agli ultimi 200 metri, ecco che arrivano le staffette della polizia stradale sprint ai 150 metri, la maglia ciclamino di Rosola al centro del gruppo una volata incredibile, volata e Cimini che alza le braccia, incredibile Cimini, Cimini che ha approfittato del rallentamento del gruppo che ha sorpreso tutti sulla destra precedendo Rosola colpo a sorpresa Cimini formidabile, ha fatto uno sprint di rimonta eccezionale, eccezionale veramente vogliamo rivederlo mentre ecco Turao ecco ecco